Grazie a tutti No, niente, io volevo solo ringraziare tutti quanti quelli che sono intervenuti perché insomma questa serata per noi era importante farla come segno della nostra partecipazione alla vita della città e della periferia insomma. Comunque ringraziamo tutti gli artisti, tutti i visitatori anche forse occasionali qua, andiamo a cominciare questo dibattito che sarà... che sarà introdotto dai fan di Dada che presenteranno i nostri ospiti. Quindi, niente, grazie a tutti e buona serata e anzi devo dire questo, diamo inizio ufficialmente ad H.T.L.E. 2016! Ciao a tutti, questi tavoli possono essere anche utilizzati per le sedute, chi vuole possono essere... Chi vuole, i giovanotti possono essere... Allora, ci fa molto piacere che questa piazza, oltre alla giornata di lavoro che sempre e tutti i giorni avviene qua dentro, si trasformi per poche ore in un incontro con l'arte. Vogliamo fondamentalmente iniziare a ringraziare sui cinque secondi la pazienza e la condivisione che hanno voluto dimostrarci i lavoratori del mercato. Enzo, che ringraziamo in prima persona, e Enzo e anche Stefano che si sono prestati a... Enzo praticamente che ci sta dando anche la luce e quindi lo ringraziamo con grande affetto. Invece questa serata vertirà fondamentalmente in una chiacchierata molto amichevole, dal titolo L'arte alla periferia. L'abbiamo voluta intitolare così, per dare un significato di cosa vuol dire per noi l'arte. Abbiamo invitato delle persone che lavorano con l'arte in periferia. Partendo dal titolo che abbiamo dato appunto al talk L'arte alla periferia, volevamo chiedere e fare alcune domande, domande che poi gireranno tra gli oratori. Come si può portare l'arte al centro? Cioè ora è al centro della nostra attenzione. Per preparare questo talk io e Davide ci siamo anche un po' interrogati, è stato interessante per noi confrontarci. Ci siamo appunto domandati come si può risvegliare nella gente la consapevolezza del bisogno di arte. Cioè abbiamo bisogno di arte, quindi c'è bisogno di instillare in qualche modo un bisogno. Come può avvenire ciò? Questa è un po' una domanda che vorremmo che fosse come un filo rosso, che non è l'opera viva, che è anche l'opera viva di Bulgini. E potremmo anche iniziare partendo dal primo oratore che è il nostro carissimo amico Maurizio Cilli, artista, architetto e amicone, che appunto per organizzare questo talk ci ha dato appunto un punto di inizio. che è poi questo, adesso faremo partire questo video di Alfredo Giard, noi ve lo facciamo vedere e poi lasciamo la parola, prima parleranno da sole, molto da sole le immagini e poi lasceremo un attimino la parola a Maurizio. Buon appetito! Grazie. 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 In questo momento scatta con una sorta di cortocircuito cioè loro riconoscono nello spazio se stessi. Questa cosa produce un certo senso di euforia. Chogard finalmente ha uno spazio da dedicare a dei significati. Il giorno dopo su giornale. Invece nell'edizione pomeridiana compare un articolo a caratteri cubitali che dice domani alle 15 i vigili del fuoco bruceranno la custata. I cittadini si ribellano sui forum, vanno al municipio, cercano di fermare questa cosa e invece puntualmente come avete visto i vigili del fuoco vanno e bruciano l'edificio. Davanti ai cittadini sciogali e sterefatti che non credono ai loro occhi. Ma come? Che cosa dice questa cosa? Che cosa fa il fuoco giallo? Semplicemente costruisce il desiderio. Cioè lui attraverso quest'operazione di pochi giorni è riuscito a mettere insieme una comunità costituita ma di fatto che fra loro non parlano di questo problema. In quel momento dopo aver bruciato questa forma archetica, questo spazio che poteva contenere dei significati, quella è una comunità che sta lottando per un desiderio. Scelgo spesso di partire da questa quando racconto gli argomenti simili a quelli che sono stati lanciati stasera. Di solito si tende a banalizzare molto il fatto che ci siano dei momenti della città poco interessanti. Intorno esiste tutta una retorica della sicurezza, del fatto che le città sono insicure, che ci sono quartieri. La stessa logica che porta quasi tutti i candidati alle scorse amministrative ad usare la parola periferia come un colluttorio, no? Cioè tutti usavano, si facevano i gargarismi con la parola periferia continuamente. E con questa cosa, anche questo modo un po' assertivo, no? Tutti sanno che cosa fare in periferia. Allora portiamo il nostro catalogo di progetti con una forza muscolare, vi dimostreremo, che Renzi addirittura dopo i fatti del Bataclan, dice un euro e un campo di basket ogni euro speso per le armi. Cioè arrivano a fare delle dichiarazioni roboanti intorno improvvisamente a questa questione della sicurezza. Ecco, da Sugar passiamo a Piazza Foroni. Che cos'è Piazza Foroni? Piazza Foroni è uno spazio che mette completamente in crisi quello che ho appena detto. Cioè il fatto che in alcuni momenti delle città esistano delle situazioni che non producono significato. Questo non è vero, perché questo spazio dimostra come da circa cent'anni qui vive una comunità forte che si è costituita gradualmente attorno al mercato. Però dobbiamo riflettere su perché questo è accaduto in questo spazio. Perché Piazza Foroni è così? Perché in Piazza Foroni possiamo riconoscere una comunità? Perché è possibile fare una cosa come questa in Piazza Foroni? Questo è uno spazio, come vedete, a forma di clessidra. Perché nasce uno spazio a forma di clessidra in una città dove gli isolati sono tutti reticolari e che seguono un'espansione sempre razionale secondo blocchi quadrati? Perché il primo tracciato della cinta che chiudeva la città storica passava grosso modo a ridosso di Corso Novara, Corso di Gevano. Fino lì i piani di espansione dell'Ottocento arrivavano con una città che in qualche modo riprendeva i moduli razionali quadrati dei lotti del centro storico. Quando incontrava la cinta si fermava e fuori dalla cinta esisteva quello che era la città prima dell'espansione. Una città prevalentemente legata ai meccanismi dell'agricoltura e quindi con tracciati e direttrici che conducevano fuori dalla piana, fuori dalla città, che in nessun modo erano continui rispetto al tracciato reticolare della città storica. Capitava così che quando la città in un secondo momento dopo il 1913 supera i confini della prima città tracciaria e viene in qualche modo pianificata la prima parte di Barriera di Milano, i tracciati agricoli e le direttrici fanno scontrarsi con il reticolo storico e producono spazi come questo. Intorno a tutte le porte della città tracciaria trovate delle situazioni come queste. Piazza Foroni era più interessante perché era più grande ma in altri quartieri succedono le stesse cose. La porta di Ria Fratelli Bandiera di San Paolo produce diversi di questi spazi residuali triangolari. A Cibrario, in via Madrano Cristina, insomma se ne vedono una decina. Che cosa ci deve far pensare? Che uno spazio con queste caratteristiche, cioè dove fortemente la scena urbana improvvisamente si interrompe come una pausa e produce questo effetto di cortina, trasmette che ci vive la possibilità di utilizzare questo spazio secondo modalità che non sono quelle consuete. Questo non è uno spazio nel quale puoi solo parcheggiare. Infatti nasce un mercato, nasce anche perché questa parte del quartiere è stata costruita in brevissimo tempo grazie al fatto che un'impresa, l'impresa Grassi, ha portato qui e facendo una passeggiata intorno negli isolati vedete che ci sono delle case prefabbricate con delle loggie. Ecco questo è il primo quartiere dove viene sperimentata la prefabbricazione. Siamo nel 1925 quando il quartiere viene completato ed è l'anno in cui nasce il mercato ed è l'anno in cui viene inaugurata l'autostrada Torino-Milano. Da allora Piazza Foroni ha una comunità che si riconosce, molti di loro sono pugliesi, si riconoscono come i devoti della Madonna di Ripalta, dice il suo altarino. Ecco capitano delle cose molto rare. Quindi abbiamo visto due situazioni, una comunità che non ha uno spazio pubblico, non vive ozio e un'altra comunità questa di Maria di Milano che invece ha la fortuna di avere uno spazio come Ciazza Foroni, può avere un mercato e può avere uno spazio pubblico interessante. Non tutti i quartieri diceranno. Che cosa può fare l'arte? La domanda di Farniere a questo punto come possiamo fare a portare, intanto essere meno assertivi, cioè essere meno convinti che ci siano delle ricette. Smetterla di chiamare tutto quello che non si capisce, che non riusciamo a definire come periferia. Le periferie sono una cosa molto diversa da quella che genericamente intendiamo e parliamo. Le periferie sono città satellite molto lontane dai cuori delle grandi metropoli che nascevano in piena autonomia della città. Le parti più generiche, quelle su cui c'è da lavorare, non sono periferie. Sono semplicemente borghi nati nella fretta di una costruzione indisciplinata con un'architettura generica che non teneva in nessun conto la qualità degli spazi pubblici. Vedete, le città funzionano, a mio modo di vedere, con dei meccanismi sempre uguali, da sempre. Ci sono città che funzionano in alcune loro parti perché ci sono strade e spazi pubblici che hanno il fascino e sono espressivi come Piazza Foroni. Bisogna ricercarli questi spazi, cioè bisogna fare in modo che nei progetti questi spazi siano al centro della progettazione. Purtroppo nelle grandi città, Milano, Torino, ma non solo, anche alcuni quartieri di Roma molto grandi, questo non è capitato. Oggi si corre ai ripari e ci si rende conto che in mancanza di spazi espressivi non si costituiscono comunità. Guardate che noi continuiamo a fare questi errori. Lungo la spina centrale, lungo questo asse di ario che è stato appena costruito, abbiamo continuato a ripetere questi errori. Vi do un parametro. Abbiamo rigenerato, demolendo le industrie, cioè cancellando la memoria dell'architettura del lavoro del Novecento, per far spazio a quartieri, secondo me, abbastanza generici, di condomini che hanno tipologie residenziali che appartengono probabilmente al passato, alle case delle nostre nonne, due camere cucina, col tinello. Sono edifici che in qualche modo non corrono al tempo delle richieste e del modo di abitare che hanno oggi le famiglie. Lungo circa 4-5 km di questo nuovo asse di ario, guardate che per una città costruire una strada così importante non capita spesso, forse capita una volta in un secolo. Ecco Torino ha prodotto nuova città lungo la spina e provate a chiedervi, è nato un toponimo, cioè è nato un nuovo spazio che noi possiamo chiamare. Io posso dare a qualcuno di voi un appuntamento per un caffè in un luogo preciso della spina centrale? No. Questo significa che con i progetti, con l'urbanistica, con il catalogo, con le forme dell'area d'urbano, non si produce una città espressiva, o meglio si può, a patto che si consideri l'ipotesi di costruire degli spazi che possano accogliere dei significati per le comunità che ci vivono. Questo è un meccanismo importantissimo. Una comunità si forma intorno a uno spazio e si riconosce e quindi sente come una sorta di appartenenza a quel luogo, c'è come una forma di scambio identitario con lo spazio che mi fa sentire orgoglioso di vivere in quel quartiere. Questo capita molto di rado. Come fare? È molto difficile. Anche artisti molto preparati che lavorano da sempre per strada come Alfredo Jarre, dimostrano che quello che si può fare a volte è costruire il desiderio. Ma poi cosa succede? Cosa starà capitando oggi in quello spazio a Chagall? Avranno un museo? Non è dato saperlo. Probabilmente no. Nonostante sia stato costruito un desiderio, bisogna continuare a lavorare. Vedete, c'è una variabile, poi chiudo, fondamentale per questo genere di lavoro. Il tempo. Il tempo della nostra politica, il tempo che i nostri amministratori hanno a disposizione per pianificare, ha dei moduli di 5 anni. 5 anni sono un tempo nel quale un'amministrazione non può se non mettere le basi e se non afferma delle imprese sociali che sappiano costruire architetture sociali che mantengano la loro vita, la loro forza, il loro scambio e il contatto diretto con la comunità. Oltre 5 anni queste vanno a cadere. Io sono in questa fase della mia attività fermo, proprio perché dopo anni di fintativi esperimenti in alcuni quartieri della città dove abbiamo provato. Ecco. Giusto per chiudere, dove abbiamo provato portare. Mi sono reso conto che proprio per l'incapacità, il fatto di non avere una sponda forte nell'amministrazione, nell'incapacità di costruire impresa intorno alle architetture sociali, cioè il fatto di intanto di mettere in gioco non solo quelli che sono i tecnicismi della trasformazione urbana, ma mettere in gioco delle discipline diverse. Questo è un altro problema fondamentale. Cioè la città può guadagnare e diventare attraente nei confronti delle comunità se in gioco ci sono professionalità che sanno leggere questi bisogni. Non bastano gli urbanisti, non bastano gli architetti. L'arte è fondamentale perché l'arte può portare quelle che vengono, possiamo definire, momenti nei quali si sposta lo sguardo, si smette di guardare, gli spazi come li si guarda tutti i giorni. Ci sono quei momenti nei quali qualcuno che abita una piazza, una via o che abita vicino a un giardino vede quel posto finalmente con occhi nuovi. Ecco, questo è fondamentale che l'arte lo faccia. Nessuno porta l'arte a fare questo nella città. Non ci sono programmi perché l'arte pubblica abbia spazio, non ci sono leggi. La legge del 2%, cioè la legge che dice che ogni opera pubblica debba riconoscere un 2% dei lavori, dell'importo opere alla costruzione di un'opera d'arte, è una legge ancora legata ad una solidarietà dell'arte nei confronti dell'architettura. È una legge scritta per il fascismo, per un'architettura che chiedeva all'arte basso rilievi e commento all'architettura. L'arte pubblica è qualcosa di diverso. Dobbiamo chiedere che venga riscritta la legge del 2%. Oggi un'opera d'arte non è qualcosa di sussidiaro all'architettura, è la costruzione sociale di un desiderio. È il tentativo di far permanere vivo il bisogno di stare insieme in una comunità. È un'architettura sociale. Questo credo debbano fare gli artisti, e questo credo che si debba rivendicare. E questa è una strada possibile. Intendiamoci, sono percorsi difficili, lunghi, che chiedono molto tempo e che sono regolati dal conflitto. Non bisogna tenere il conflitto. L'arte deve portare conflitto. Bisogna giocare il conflitto dell'arte. Non si produce significato senza il conflitto dell'arte. Ma è come questa sera il conflitto. Allora, è bellissima sta scena. Di là c'è la manifestazione di Casa Pound, di qua c'è una luna piena. È fantastico. Quindi lì ci siamo. Passiamo alla parola adesso a Erika Mattarella dei bagni pubblici di Viagliè. Ci parli un istante, invece questa è la parte più pratica delle parole che ha parlato Maurizio. Parlare dopo Cigli è sempre comunque difficile. Partiamo da questo presupposto. Perché dice un sacco di cose interessanti, dei concetti per spiegati bene, quindi uno dice sarei in grado di spiegarli allo stesso livello, non lo so. Però intanto partendo anche dagli stimoli che ci ha dato lui, sicuramente il ragionamento che dove siamo non è una periferia, mi sembra un ragionamento da cui partire. Una ricercatrice di Torino definì per esempio un termine nuovo che erano le emiferie, per cui sono dei luoghi che sono ancora città, che sono abbastanza vicini al centro, che hanno tutta una loro storia, che non sono stati costruiti ad hoc per rispondere a un bisogno abitativo o a un bisogno urbanistico, ma si sono conformati nel tempo e questo tempo ha prodotto dei risultati, dei risultati sociali, dei risultati di cittadinanza e che comunque non sono così sfaldati come sembra. Nel senso che poi mai più come in questo momento storico le periferie sono al centro dell'attenzione sia come colluttorio che come scoperta. Abbiamo scoperto che esistono le periferie, cosa succede nelle periferie? Sono tutte brutte, tremende, abbandonate. In realtà questa cosa non è reale e il fatto che esista la storia fa sì che il desiderio comunque sia già insito negli abitanti. La nostra esperienza è nata dall'ascolto dei bisogni, nel senso che i bagni pubblici hanno aperto principalmente come bagni pubblici, funzionano ancora tutti gli effetti come docce e abbiamo avuto un affidamento da parte della città per la gestione delle docce, sono uno stabile pubblico e quando abbiamo aperto la struttura per attenzione nostra abbiamo deciso di iniziare a coinvolgere anche i cittadini del quartiere, quindi la comunità, per un po' affrontare invece lo stigma che si può avere rispetto a un bagno pubblico, per cui qua c'è la manifestazione, quindi questo è un quartiere che ha già un sacco di problemi, ci mancavano i bagni pubblici dove vanno gli ultimi della società perché chi utilizza un bagno pubblico è sicuramente un diseredato e ci sembrava interessante invece racconterà alle persone che il bagno pubblico è comunque una struttura che soddisfa un bisogno primario, che nel caso fa prevenzione sanitaria e che è giusto che esista. Come glielo vai a spiegare alla gente? Attraverso delle attività aggregative e culturali perché sono uno strumento se vogliamo fattibile, nel senso che nel momento in cui organizzo un'iniziativa, un laboratorio, un momento per stare insieme le persone magari partecipano. Le persone hanno iniziato a frequentare la struttura, che è una cosa abbastanza strana perché nuovamente il bagno pubblico nella testa delle persone è lo stigma assoluto e abbiamo scoperto facendo un'analisi dei bisogni che in questo quartiere non esistevano, noi abbiamo aperto nel 2007, non esistevano delle strutture che promuovessero il bisogno di aggregazione perché invece esiste il desiderio ma esiste anche il bisogno di aggregarsi perché lo spazio pubblico è uno spazio assolutamente importante e questo quartiere ha vissuto dello spazio pubblico perché quando noi facciamo questa mitica ricerca nel 2007 chiedevamo alla gente ma scusate voi per quando vi trovate dove andate? Le persone rispondevano a Piazza Foroni, rispondevano ai giardinetti, rispondevano a tutta una serie di spazi che sono gli spazi pubblici ma viviamo anche in una città dove l'inverno non è così mite e quindi spesso lo spazio pubblico in in inverno è molto meno frequentato perché fa freddo. Quindi c'era il bisogno di costruire degli spazi chiusi dove provare a fare delle cose e abbiamo deciso di utilizzare un piano della struttura che era abbandonato per provare a costruire comunità, partendo davvero dai bisogni perché avevamo vinto un bando con un contributo annuale però era un contributo annuale quindi abbiamo detto che ne facciamo, facciamo qualcosa che rimanga. Quindi sono stati cittadini stessi a chiederci e a mettersi in gioco rispetto alle attività da fare dentro. Finque da parte di un gruppo di cittadini l'idea, essendo vecchie docce, di fare delle mostre d'arte e arriviamo anche alla questione artistica perché poi a Caterie è anche tanto questo. Delle mostre d'arte in quartiere non c'era ancora il fico, non esistevano spazi dedicati a ospitare iniziative artistiche, c'è sempre stata la biblioteca che comunque ha uno spazio molto bello, moderno dove si facevano delle mostre però rimane comunque una biblioteca, quindi nella visione delle persone quella è la biblioteca, non è un luogo espositivo dove si può produrre arte. Decidiamo di provarci non avendone competenze perché nessuno di noi è un curatore o un operatore artistico e culturale quindi facciamo un po' una chiamata alle armi e scriviamo una serie di soggetti torinesi che invece sono titolati per fare arte. Questi soggetti torinesi ci hanno dato picche perché eravamo nel 2008, nel 2008 pensare di fare delle mostre d'arte all'interno di un bagno pubblico in barriera di Milano era una forzatura perché sette anni, otto anni ormai sembrano pochi ma sono tanti e questa città è cambiata tanto in otto anni e otto anni fa sembrava davvero una pazzia fare una mostra d'arte dentro un bagno pubblico che era ancora bagno pubblico che era barriera di Milano, i nostri destinatari sono sempre stati cittadini di questo quartiere e quindi non c'era la volontà di fare una roba super carina, super bella che portasse la gente da fuori ma i destinatari rimanevano loro e quindi ci danno picche quindi non sapevamo bene come girarci, c'era questa necessità, avevamo detto sì lo facciamo anche pieni di entusiasmo finché abbiamo incontrato un amico che è anche qui, quindi io sono contenta che sia qui che non viene in barriera di Milano da un sacco di tempo, che è Tonichina che invece lui i tempi esponeva solo per strada perché era stata una sua scelta provocatoria quello di utilizzare la strada e lo spazio pubblico come spazio personale di esposizione che ci dice sì, ci credo io, non ho mai esposto al chiuso e adesso esporrò al chiuso quindi ci tiriamo sulle maniche, realizziamo la galleria, montiamo le luci, cerchiamo di immaginarci che cosa voleva dire fare un'esposizione e iniziamo a fare queste mostre che si chiamano un tuffo in barriera che hanno portato nel tempo una bella legittimazione, una bella legittimazione da parte del quartiere che è la prima cosa perché comunque le persone potevano venirsi a vedere una mostra era anche inusuale e è una legittimazione, nel nostro caso questo è un quartiere che ha anche tanta intercultura perché è un quartiere dove l'immigrazione è forte, se ne deve parlare e abbiamo deciso di utilizzare lo strumento dell'arte per raccontare che gli immigrati non sono solo spacciatori operai ma a volte ci sono anche degli artisti, quindi prendiamo questo canale di dire proviamo a mappare quali sono gli artisti immigrati a Torino e esponiamo loro, esponiamo loro perché è un posto inusuale, la maggior parte di queste persone nel loro percorso immigratorio smettono di fare gli artisti perché entri in un ciclo vizioso per cui devi rinnovare il permesso, devi lavorare, c'hai la famiglia e a volte smetti anche quello che è la tua produzione artistica e avranno voglia di esporre il bagno a un certo punto e questa cosa è andata bene, è andata bene perché davvero rispetto all'impatto con la cittadinanza ha permesso di raccontare un altro tipo di immigrazione che era intanto un obiettivo per noi importante e provare a raccontarlo attraverso l'arte è stato un esperimento che ha funzionato perché di nuovo l'arte invece è uno strumento buono, uno strumento spesso comprensibile, non è vero che è così incomprensibile spesso è bello nel senso che ti stimola ma poi adesso Burgi racconterà il suo e quindi quanto può stimolare la cittadinanza a riflettere, a riflettere su quello che è il proprio territorio, la propria comunità di intervento io chiudo, grazie mentre stiamo parlando se qualcuno comunque ha piacere di chiedere qualche cosa è libero di farlo, è una cosa molto aperta passiamo adesso solo un istante ancora la parola a Lorena Tadorni del lettore Fico che ci presenta un istante un altro momento di questo quartiere buonasera ciao presentazione va bene non importa allora io inizio a parlare un pochino di quello che per lettore Fico si chiama art cioè attività e relazioni con il territorio e mi riaggancio a due cose che hanno detto sia Maurizio sia Erika ma soprattutto una parola che l'ho sentita comunque nominare più volte durante i primi due interventi che è desiderio il desiderio che era il centro di quella che è stata la, cioè comunque il lavoro di Jarre il desiderio ciao mia figlia il desiderio che molto spesso ha una comunità o un territorio di riconoscersi o comunque di mutare quello che è il suo aspetto il museo Ettore Fico che è nato sulla famigerata Spina in Viacinia due anni fa in realtà non è una nuova costruzione ma è il restauro di una vecchia fabbrica, una fabbrica di cavi elettrici quindi in realtà non è stato snaturato un edificio ma è stato riutilizzato è nato come luogo espositivo, come museo il desiderio qual era? io ho proposto questo progetto appunto di attività con il territorio perché avevo il desiderio di far sì che questo luogo diventasse un luogo che in barriera di Milano fosse eticamente come dire, giustificabile cioè molto spesso il museo è visto proprio come un luogo chiuso, come un luogo elitario ci si va per l'inaugurazione, poi non ci si va più, ci vanno sempre le stesse persone secondo me un museo che nasce in barriera di Milano, perlomeno io avevo appunto questo desiderio del fatto che fosse, come dire, aperto, provasse essere aperto a quello che era appunto la cittadinanza e questo desiderio lentamente ho cercato di, stiamo ancora cercando con un percorso molto lungo perché questi percorsi sono sempre molto lunghi di instillarlo nelle persone che comunque vivono in barriera di Milano perché molto spesso dire che in barriera c'è un museo può sembrare proprio come dire ah, buono, cioè vicino a casa mia è nato un museo quindi barriera è un luogo dove c'è un museo, c'è un luogo di cultura e quindi però per farlo germinare devi fare sapere alle persone, devi instillare nelle persone il desiderio di venire al museo, il desiderio comunque di viverlo questo museo e questo si fa con tutte le problematiche che ovviamente ci possono essere in una struttura che è privata perché il museo di Ettore Fico è una struttura privata facendo un lavoro appunto di, forse di solletico di quello che possono essere dei bisogni perché magari a volte bisogno uno ce l'ha chiaro come quello di avere, non so, una struttura sanità cioè una struttura come quella che possono essere i bagni in cui io vado a farmi il bagno e quindi la uso in maniera, come dire, funzionale, esatto nel caso di un museo forse questo bisogno può essere un pochino solleticato deve essere un po' solleticato, non le persone perché comunque la cultura in qualche maniera non è vista molto spesso come un bene primario come un bene funzionale e quindi in questo caso, malamente, però in realtà è quello cioè in questo caso il concetto di desiderio abbiamo cercato lentamente di farlo come dire, venire fuori, prima con un lavoro con le associazioni che in realtà avevo fatto già anche prima di essere al museo di Ettore Fico alla Manufattura Talacchi poi con una serie di interventi che in qualche maniera sono anche usciti dallo spazio del museo ripeto, sempre con la difficoltà del fatto che comunque noi siamo una struttura privata e quindi come tali dobbiamo far fronte con dei conti però questo desiderio io ultimamente l'ho anche raccolto e lo dico adesso, cioè io vedo qui Enzo che comunque è un po' l'anima della piazza e questo raccogliere il desiderio che è arrivato durante una conversazione con Enzo per me è stato un po' come dire un po' capire che quello che stavo facendo in realtà qualche frutto lo dava perché Enzo un giorno parlando mi ha detto ma perché non portate una mostra di Ettore Fico non portate un pezzo di museo in Piazza Foroni cioè per me è questo, il fatto che arrivi da una persona che la piazza vive tutti i giorni che è comunque un commerciante e che chiede di avere un pezzo di museo vuol dire che già dopo non tanto tempo cioè questo lavoro forse un pochino sta funzionando qualche segno un pochino lo dà in realtà è quello che abbiamo fatto questo è Ettore Fico in realtà è proprio quello che abbiamo fatto perché mercoledì prossimo e approfitto anche per invitarvi tutti per fare un minimo di pubblicità mercoledì prossimo qui alle 11 inauguriamo due mesi di una programmazione su Ettore Fico che è stata voluta e ideata insieme ai commercianti quindi ancora una volta un progetto che è partecipativo che molto spesso molti artisti fanno progetti partecipativi che però poi alla fine che presanno poi davvero a livello di partecipazione o a livello proprio di radicamento sul territorio cioè in questo caso non è stato solo prendere e portare l'opera di Fico all'interno del mercato è stato condividerla e farla nascere proprio come i commercianti primo loro hanno proprio scelto Fico perché Fico comunque era un pittore perché Fico comunque ha un linguaggio che ha attraversato tanti stili tante suggestioni però intanto è sempre stato pittorico e quindi è riconoscibile e quindi non è difficilissimo è molto spesso ostico come in alcuni casi capita con alcuni linguaggi dell'arte contemporanea e quindi questo Fico che arriva al museo cioè queste cinque mostre dei due mesi sono state davvero scelte da chi il territorio lo abita però attraverso proprio un processo di avvicinamento a quello che è stato il museo quindi i commercianti sono venuti al museo hanno fatto un laboratorio pratico quindi hanno dipinto hanno collaborato proprio con noi a cercare qualcosa che abitasse il loro spazio quotidiano ecco per me questo è stato un po' raccogliere un desiderio e in qualche maniera ha colmato anche un pochino cioè mi ha fatto capire che quel desiderio che avevo io in qualche maniera forse poteva anche essere condiviso questo era tutto ciò che volevo dire questa sera poi se verranno fuori altre cose però era un'idea sul desiderio grazie mille volevamo farvi anche conoscere un'altra identità è un'altra forma di museo ci sono venuti i nostri amici i fondatori del MUFAN che è il museo del fantastico e della fantascienza vi presentate un istante ci dite dove siete sì grazie Fanni beh intanto sì siamo un museo insomma proprio di periferia siamo in realtà alla periferia della periferia nel senso che siamo in via Reis Romoli nello slargo che poi è lo spiazzo insomma di via Cialoia e appunto siamo il MUFAN che sta per il museo del fantastico e della fantascienza e a proposito appunto come dire di desiderio oltre alla dimensione urbanistica una motivazione insomma senz'altro che ci anima insomma è proprio quella di anche quella se vogliamo di un desiderio di riscatto perché la cultura insomma del fantastico e della fantascienza è una cultura periferica insomma è una cultura percepita percepita insomma come non cultura insomma qualche cosa di pop per fare un esempio fra gli infiniti veramente che potremmo fare lo scorso anno abbiamo fatto come dire un percorso insomma per far conoscere il lavoro e la ricerca di Primo Levi e molto molto insomma molte poche persone sapevano che il non come dire un momento estemporaneo della ricerca di Primo Levi ma se vogliamo quantificare il 50 per cento insomma delle opere di Primo Levi sono di fantascienza insomma parlando appunto sempre di lui ricordiamo appunto alla fine degli anni 60 quando le storie naturali insomma i suoi racconti sono stati pubblicati per la prima volta da Inaudi l'indicazione appunto della casa editrice era quella intanto di far presentare Primo Levi con uno pseudonimo insomma lo troviamo appunto le storie naturali nella prima edizione come con l'autore Daniele Malabaglia e con un teaser appunto attorno alla facetta che indica fantascienza appunto interrogativo un po' come a prendere le distanze insomma da questo oggetto che non era considerato abbastanza mainstream ma abbastanza insomma come dire culturalmente elevato insomma questo per dire che la nostra motivazione insomma la nostra anima di immaginario periferico ci ha portato insomma anche a collocarci in un luogo che appunto è quello di via Reis Romoli un po' al di fuori insomma naturalmente la vocazione della fantascienza se vogliamo anche andare a cercare origini insomma antiche nel mondo ovviamente dell'altrove e dell'utopia è proprio quella insomma di immaginare luoghi, cose e identità appunto dell'altrove e da altre parti in qualche modo appunto decentrate ecco rapidamente insomma invece per ribaltare la questione a parte adesso lascio la parola magari a Silvia per entrare nei dettagli di che cosa sia il muffante di cosa facciamo diciamo paradossalmente certo noi siamo nati da poco e ancora pochi insomma ci conoscono però curiosamente a proposito del coinvolgimento di pubblico eccetera noi tendenzialmente non abbiamo questo genere di problemi in realtà ci sono molte persone come possiamo immaginare il famoso mondo appunto in parte dei nerd in parte dei cosplay non soltanto ovviamente ma questo è un esempio per dire che voglio dire i linguaggi insomma di certo immaginario fantastico e fantascientifico anche quello più per modo di dire inflazionato insomma quello di Star Wars del cinquantesimo come dire episodio di Star Wars o di Star Trek insomma ora e certamente ha un grande pubblico il nostro lavoro mettendo insieme e mostrando che il fantastico moderno insomma quello che è nato 200 anni fa quando sono nate le macchine quando il mondo cambiava quando si immaginava appunto da una parte il futuro dall'altro appunto un altrove con tutte le angosce o il come dire il meraviglioso e il tremendo che faceva da contorno appunto non è soltanto questo cioè il nostro lavoro è quello di condividere con il nostro pubblico cioè di rompere insomma in qualche modo un qualche automatismo una qualche cristallizzazione appunto come dicevo prima un po' nerd per cui ci si affeziona voglio dire a quello a quell'altro immaginario insomma si diventa fan si diventa consumatori e questo appunto è ben in qualche modo evidente forse a tutti appunto nelle folle che invadono appunto i vari comics insomma sempre più il lavoro che cerchiamo di fare noi è appunto quello di mischiare i linguaggi quindi rompere un automatismo un livello come dire di affezione e di in qualche modo incrementare il desiderio insomma renderlo meno fissato in qualche modo farlo crescere ecco questa è una prima una prima impressione sì vabbè io in realtà vorrei concludere poi con con una bella notizia che ci è arrivata oggi allora premesso il MUFANT è gestito dalla nostra associazione culturale che si chiama Immagina ed è un'associazione culturale che lavora sul fantastico già da dieci anni cioè anche di più siamo nati nel 2002 prima di aprire il MUFANT in questa sede avevamo già un piccolo centro espositivo in un'altra sede eravamo in Bialuini e poi diciamo che l'istituzionalizzazione è arrivata con questa nuova sede che è piuttosto grande insomma sono circa mille metri quadrati di allestimento prima di darvi la notizia che insomma oggi ci ha ha direttamente anche coinvolto Fanni Dada perché è una cosa che abbiamo fatto insieme vi dico come è strutturato il museo come l'abbiamo immaginato poiché il fantastico il nostro primo amore è la fantascienza ma c'è anche fantasy anche una parte horror e fanta-horror l'immaginario fantastico ha invaso tutti i media quindi fumetti letteratura cinema serie televisive videogiochi ovviamente l'immaginario artistico e quindi noi abbiamo cercato di rappresentare tutti i media all'interno del percorso quindi abbiamo una sala sulla protofantascienza cioè sulle origini della fantascienza quindi Verne, Wells, Salgari, Edgar Allan Poe quindi la letteratura la narrativa popolare fantastica ottocentesca poi abbiamo una sala sui pulp magazine quindi le riviste sulle quali nasce la science fiction in America negli anni venti amazing stories, astounding, astonishing, eccetera poi abbiamo un salone vedete alcune immagini dove ogni teca siamo già nel novecento e ogni teca è dedicata a un tema gli alieni, i robot, il cyberpunk i rapporti con la scienza i dinosauri, eccetera la sezione serie tv e qui è da ampliare ma abbiamo una buona sezione sul dottor U oppure su Spazio 1999, UFO l'immancabile Star Wars nella sua sezione apposita abbiamo dedicato una piccola parte alla RAI quindi a tutto ciò che la RAI ha prodotto di fantascienza dalle origini insomma ai primi anni 90 le grandi epoche degli sceneggiati cult anni 70, eccetera poi abbiamo una biblioteca e il nostro lavoro di quest'anno è di catalogare tutto è una biblioteca di saggistica e letteratura fantastica di entrare nel sistema delle biblioteche civiche torinese col quale collaboriamo già da tempo su alcune cose ma il nostro desiderio è in qualche modo istituzionalizzarci e prestare o perlomeno fare la possibilità di consultazioni e poi una sala dedicata all'arte noi l'abbiamo chiamata in modo un po' così ambizioso perché noi non ci occupiamo di arte direttamente GAF, Galleria di Arte Fantastica e abbiamo iniziato a fare alcune mostre soprattutto di tavole originali di fumetti c'è un mondo del fumetto che è un'espressione artistica pazzesca con delle firme con dei livelli molto alti quindi diamo spazio ai fumettisti e ad altre forme artistiche abbiamo fatto una collettiva di 10 giovani artisti su vari linguaggi espressivi questo è il MUFANT oggi noi siamo molto è un progetto autosostenuto dalla nostra associazione noi non abbiamo contributi stabili ovviamente un po' ormai come penso quasi tutte le associazioni o insomma i gruppi si va attraverso bandi bandi pubblici che siano del comune o della regione o di altre istituzioni e oggi ci è arrivata la bella notizia che assieme a Fannidada un progetto proprio per implementare il MUFANT e questo è un po' sia dalla parte strutturale cioè migliorare la struttura espositiva non tanto i contenuti quanto i contenitori e abbiamo vinto oggi insomma l'hanno pubblicato il bando Culturability che è un bando della fondazione Unipolis è un bando italiano partecipano insomma da tutta Italia sono arrivati più di 500 progetti e perché insomma siamo felici perché finalmente ci possono abbiamo un po' di fondi per non solo ristrutturare tra virgolette la parte espositiva ma per continuare e implementare l'attività culturale che è poi un po' quello che ci interessa veramente e quindi niente siamo contenti è la prima occasione che abbiamo di dirlo inizieremo un viaggio con Fanny Dada e loro ci... nello spazio un fantastico viaggio e in questo progetto c'è ovviamente l'implementazione estetica l'attività culturali e anche la istituzionalizzazione di questa biblioteca che è piuttosto ricca c'è arrivata una grossa donazione dalla famiglia di Riccardo Valla che è stato un po' l'ispiratore del MUFANT Riccardo è stato il curatore delle edizioni Nord la collana di editrice Nord una delle collane di fantascienza insomma più importanti in Italia almeno insomma fino a un po' di anni fa e per concludere noi non abbiamo mai sentito addosso la periferia nel senso che quando ci hanno fatto vedere gli spazi che naturalmente non erano ringraziamo noi siamo alla 5 come circoscrizione non alla 6 però siamo vicinissimi quando ci hanno fatto vedere gli spazi molti la prima cosa non noi dell'associazione ma i primi amici o comunque le persone che gravitano attorno ma ve la sentite di rimanere così periferici noi siamo proprio in via Reis Romoli ma noi insomma l'abbiamo veramente ma in modo onesto presa come una risorsa e non come una insomma una cosa negativa diciamo sono mille metri quadrati gli spazi sono grossi per noi e anche lo spazio è una ex scuola anni 60 ancora con peraltro molto con molte qualità più che non non difetti ad esempio dei bellissimi lucernai che useremo e insomma va bene vi invitiamo e il nostro è un esempio di periferia a livello ideale cioè culturale cioè no ci occupiamo di fantascienza di una cultura che è considerata periferica l'idea molto italiana eh di valutare questo genere e periferia in senso fisico lo dicevo però il pavimento ci piacerebbe cambiarlo eh no lo cambieremo mi piaceva piacere appunto far conoscere questa realtà e forse mi sono dimenticata di presentarli Silvia Casolari e Davide Monopoli perché scusate siamo diciamo che in chiusura ma non perché è una dinamite c'è l'opera viva del quartiere che sarebbe Alessandro Bulgini artista di una presentazione ogni volta è così eh e vado a riunioni lì cioè l'altra volta ti ricordi lì al comune Bulgini no per ultimo ogni volta è così quindi sarò breve sarò breve intanto benvenuti nel mio studio no no non scherzo benvenuti nel mio studio visto che H Atelier no parla di studi il mio studio è Barriera di Milano e non l'ha scritto sul volantino il mio studio è Barriera di Milano è uno scherzo il mio studio tu dillo decretalo e fallo il mio studio ho deciso che doveva essere esattamente questo quartiere ho lasciato il mio studio quello fatto da quattro mura domestiche e sono sceso di casa ho smesso di dipingere lo facevo anche mediamente bene e fermali e sono andato sotto casa andavo a fare colazione dove è Luigi Luigi dove sei te ne sei andato dove cazzo sei eccolo là vi ho portato anche l'origine la prima opera è lui quel signore lì Luigi era proprietario del bar Luigi bar sotto casa mia sotto casa mia in via Brandizzo si chiama bar Luigi che cosa ho fatto l'idea era questa lasciare lo studio lasciare il cavalletto lasciare i pennelli e incominciare a tifare per il mio quartiere tifare per le persone volevo verificare quanto l'arte potesse veramente interferire aiutare fare baciare e sono andato a verificarlo con la prima cosa che incontravo cioè il bar sotto casa mia dove andavo a fare colazione ho detto ci vado a mani nude in modo da da far miracoli ancora più insomma suggestivi sono bravi tutti a fare sculture con il proprio bagaglio culturale no no dico vado sotto casa vado dal mio amico e gli dico Luigi possiamo iniziare un percorso e lui ha detto subito sì voglio iniziare da questo racconto sarò breve ho messo no no cerco di essere breve ho messo su 10-12 immagini per farvi capire come funziona bar Luigi l'ho fatto diventare un acrostico e questo acrostico anche se divertente racconta un po' come ho visto questo nuovo progetto bar Luigi è diventato base aerospaziale ricercatore di luoghi di utopie indipendenti e geometrie ignote utopie le ho usate così come quando uso periferia proprio per favorire gli altri per non farli preoccupare quando tu dici utopia dici ah meno male sta scherzando così come quando dici periferia in realtà per me questa non è periferia ho scelto barriera di Milano come centro della mia vita artistica per me questo è il centro fatto sta che lo vedrete successivamente dopo insomma successivamente vedrete che ho fatto anche dei passaporti per entrare in barriera di Milano allora questo è l'inizio del progetto il progetto è molto semplice ho detto che qualsiasi luogo pubblico privato poteva diventare un luogo di accoglienza artistica gratuita e senza filtri quindi già parlavo di accoglienza quindi ho promosso un franchising che si è diffuso con la rete con questo luogo chiunque poteva aprire un bar Luigi poteva ospitare la creatività gratuitamente e diffonderla tramite la rete tramite Facebook in un anno ho aperto 19 bar Luigi nel mondo parrucchieri macellai tutti che esponevano case private c'è un bar Luigi si chiama Bar Luigi due pareti perché erano due pareti di un ginecologo che aveva aperto casa sua per poter ospitare la creatività cioè l'idea era quella di far diventare barriera di Milano un luogo dal quale partivano degli input nel mondo un network così nasce tutto il mio progetto parto da barriera in barriera io trovavo il centro del mondo io ho incominciato a vedere barriera come un universo in barriera rappresentato tutto quello che mi interessava non dovevo spostarmi più di tanto perché in questo quartiere forse voi non sapete ha 55 mila abitanti d'accordo c'era tutto quel che io potessi desiderare grazie al mio percorso su barriera poi in realtà sono stato ospitato nel mondo mi hanno mandato ovunque in Marocco in America a Calais insomma ovunque ma grazie all'esperienza che io ho fatto in questo quartiere tutto era ben rappresentato qui possiamo andare avanti un attimo allora vabbè questo era il secondo luogo arte e resistenza incomincio a parlare di esistenza non so se sono stato il primo il secondo il terzo chi se ne fregava cioè la resistenza era raccontare dell'esistenza cioè dell'esistente cioè io mi appello al preesistente tutte le operazioni che io vado a fare come artista si avvalgono di ciò che preesiste sono un artista che si avvale che tifa per la decrescita un artista povero che utilizza appunto quello che trova nasce quindi la mia esperienza con Bar Luigi sto chiuso dentro il bar un anno e mezzo all'incirca dove incomincio a promuovere delle cose questo è il Bar Luigi i primi giorni era così Luigi la gente andava a mangiare lì si metteva tutta di spalle guardava le partite ok questo è il primo andiamo avanti ecco Luigi opera viva questo è il secondo step dichiariamo Bar Luigi opera viva terzo step per far sapere agli abitanti che stava succedendo qualcosa sono rovesciato l'insegna infatti un vecchietto mi racconta Luigi che è venuto da noi a dirci madonna ti si è rovesciata l'insegna ti do una scala così la possiamo rirovesciare da capo pensavo che fosse stato un evento naturale comunque incominciamo a dare sì sì a dare degli input alla cittadinanza che qualcosa stava accadendo andiamo avanti questo è il famosa piatto questa è un'opera pazzesca sono la pasta con le polpette della mamma di Luigi che decreto come grande opera d'arte quindi per me l'arte è comunicazione immediata diretta non ci sono più filtri non ho bisogno di fare cose molto complesse per me le polpette della mamma di Luigi erano un capolavoro le ho difese su internet in tutte le maniere andiamo avanti questa era Bar Luigi a un certo punto c'era la mia barca appesa lì con la quale attraversai il Tevere nel 2005 le opere di tutti gli amici ho incominciato a cogliere ma tutto questo era una scusa per dire che non c'era un luogo migliore dove ospitare l'arte che un luogo vivo vitale vissuto dalla gente del quartiere tutte queste cose erano in connessione tramite Facebook con le altre parti del mondo abbiamo aperto un Bar Luigi a Bangkok di fronte alla reggia a Silpacorn oppure l'abbiamo aperto ad Amsterdam insomma un sacco di posti questo per rendere quella che è intesa per gli altri la periferia come un luogo invece vitale di un network un punto dei tanti network che ci sono nel mondo andiamo avanti ancora Bar Luigi esercizi di libertà andiamo avanti e poi abbiamo ospitato un sacco di persone un sacco di amici è stata una figata pazzesca poi Luigi un giorno non ce l'ha fatta più economicamente ha chiuso andiamo avanti oh come ha chiuso questo è il giorno più o meno della chiusura giornalisti qualcuno si è preoccupato ha detto all'esaco ho chiuso Bar Luigi tu sei fottuto e no questa per me è stata una grande opportunità ho detto ora sono cazzi vostri il mio studio il mio Bar Luigi diventa barriera di Milano prendo la scala mi faccio un fucile di legno d'accordo e incomincio a fare la vedetta a difesa del mio quartiere andiamo avanti eccolo qua qua ho incominciato a perimetrare esattamente per dire il centro sono io io nel senso il mio quartiere non siete voi e incomincio a perimetrare con un binocolo fatto di legno un fucile fatto di una spingarda d'accordo a perimetrare il mio quartiere a dire se volete passare dovete prendervi il passaporto andiamo avanti eccolo ancora qui mentre faccio la guardia ecco qua questo qua un giorno mi invitano degli amici mi invitano a fare una mostra in centro io dico cazzo di in centro non ci voglio andare allora per fare la mostra cosa faccio faccio questa mostra si intitola spazio provvisore adibito a rilascio passaporti per le barriere a nord praticamente mi diverso da burocrate e chiedo alle persone di sottoscrivere e darmi un euro qua ci sono tutti gli oggetti del bravo burocrate e incomincio a rilasciare i passaporti per venire in barriera questo è andiamo avanti eccolo qua questo è il passaporto e ce l'ho se volete poi con calma un giorno ve li faccio nome e cognome città e nazione questo è il passaporto per venire in barriera il centro siamo noi cazzi vostri va bene andiamo avanti dopo di che dopo aver fatto questa attività con le mie allucinazioni d'accordo ho incominciato a dire ora come diceva giustamente Maurizio rendere orgogliosa la gente di questo quartiere rendere orgogliosa la gente di questo quartiere bisogna fare qualcosa per questo quartiere soldi non ce ne sono cazzi ho detto 5 euro 100 gessetti incomincio così sono uno tostissimo ogni giorno sono sceso per strada e ho disegnato tutto il mio quartiere l'ho disegnato completamente facendo con questi crop circles o chiamateli mandala chiamateli come volete con i gessetti dovevano sparire dopo un po' di tempo ma questo mi ha dato la possibilità alla gente di farla ritrovare attorno a questi cerchi vedevo mentre disegnavo la gente di qualsiasi etnia ritrovarsi e riconoscersi non a caso facevo questi disegni li facevo in modo che assomigliassimo un po' a disegni medio orientali un po' a disegni del sud Italia in modo che la gente si ritrovasse felice intorno a queste cose e per un anno ancora per un anno ho disegnato tutti i marciapietti di barriera di Milano questo mi ha permesso a un certo punto ogni qualvolta facessi anche solo il cerchio che la gente venisse a far tifo per me far sentire orgogliose le persone far sentirsi un po' privilegiati del fatto che si vive in quel quartiere dove gli alieni a un certo punto hanno inteso di disegnare e lasciare delle cose andiamo avanti tutte queste cose naturalmente sono dei piccoli pretesti io non ho inventato l'acqua calda io ho messo a disposizione le mie energie per un quartiere pensavo che le mie energie quelle che avevo a disposizione per un quartiere potessero essere sufficienti è bello grosso però in effetti così credo di essere riuscito un po' a portare il mio contributo per fortuna poi il museo Ettore Figo ha deciso io non chiedo mai niente a nessuno di ospitare questa mostra è stata dopo Ettore Figo è stata la seconda mostra insieme agli Sfiglioli essere ospitati ne sono stato grato perché è stato bello che questo lavoro io li chiamo protocolli le fotografie che vengono scattate di questi disegni siano state conservate nello stesso luogo dove sono stati realizzati andiamo avanti ancora ancora questi sembrano i merletti delle nonne ancora in relazione al paese al paesaggio dopodiché un'altra cosa che ho fatto ad esempio sotto Natale mi ero incazzato l'amministrazione perché dicevo è possibile che voi le luci d'artista che costano così tanti soldi per Torino d'accordo non vengano in qualche maniera distribuite per le periferie allora ho detto siccome non ci pensate voi ci penso io allora ho cominciato a fare luci d'artista per il barriera di Milano ho fatto il lampione di Natale e per cui ho perimetrato ho mappato tutto il territorio andiamo avanti forse qualcun'altra c'è ora questo palazzo non c'è più l'hanno distrutto e io ho mappato questa cosa e la gente ancora avanti vediamo forse c'è del mercato no questi famosi palazzi meglio che non parli andiamo avanti eccolo qua anche il mercato qua c'è Enzo dov'è? non c'è più eccolo no anche al mercato la gente si veniva a fare i selfie con me quindi portare con piccole pietre d'inciampo dei pretesti a dire guarda è possibile che tutto capita nel mio quartiere orgoglio con dei piccoli pretesti andiamo avanti oh questo è un altro progetto che ho fatto praticamente non è che mi sono inventato sta maschera l'avevo fatta tempo addietro per un altro progetto me la sono trovata ho detto ora uso anche questa e l'ho chiamato questo progetto tesoro ho indetto una sorta di caccia del tesoro per barriera di Milano ogni giorno mi facevo il calco del viso e poi lo andavo a mettere da una parte all'altra poi lo mettevo su facebook le immagini la gente sapeva più o meno quegli esperti di barriera dove fosse correvano per andarla a prendere anche lì ho mappato abbastanza il mio quartiere tutto questo per portare ogni opera ogni lavoro che ho fatto a come titolazione barriera di Milano cioè lavorare anche sulla titolazione per continuare a portare un contributo sul mio quartiere l'idea è continuare a verificare quanto l'arte in qualche maniera possa guarda questo è forse lo spunto più importante rendere più felici orgogliose una comunità capito sotto legita di piccoli pretesti andiamo avanti questa è una delle maschere ogni giorno ne regalo una se le metto avanti così ho questa qua è il progetto che è iniziato l'anno scorso e tuttora continua praticamente ho preso un un tabellone qui che c'è in piazza bottesini in affitto quest'anno per sei mesi insieme alla fiera flashback e praticamente vabbè l'anno scorso si concludeva così antichetto a sorella era inteso è una provocazione naturalmente è come quando si parla di barriera no? amiche a barriera è un quartiere vecchio brutto brutto e vecchio è anticolo per dire la tua sorella e comunque o viceversa sta a intendere che tua sorella è vicino a te in pratica quest'anno il progetto continua abbiamo preso sei mesi in affitto questo cartellone sto ospitando sei artisti internazionali uno per ogni mese tutte queste cose qua comunque continuano a lavorare sempre con la stessa idea cioè quella di portare beneficio tra virgolette al mio quartiere andiamo avanti questo è invece il lavoro che ho fatto ve lo indico anche se non è in barriera di Milano perché è in piazza d'Erna l'ho fatto sono queste porte salti con l'asta perché ve l'ho fatto vedere perché questo per farvi vedere come procedo io questi pali qui che ho fatto diventare salti con l'asta in realtà sono dei pali per l'attenzione della rete tramviaria l'ho fatto col museo Ettore Fico con la collaborazione li ho fatti diventare salti con l'asta è diventata una porta mistica all'ingresso di barriera nord tutte queste robe qua agire sul tessuto con quello che c'è questo lavoro è costato nulla quasi niente proprio perché è molto semplice il lavoro sul preesistente portare con la fantasia con piccoli spostamenti dei continui contributi andiamo avanti questo invece questo ha per dirvi come come produco io le mie idee allora questo è l'utopia qua siamo a Taranto sono stato ospitato a Taranto una delle performance più importanti che ho fatto a Taranto è il primo tentativo di spostare l'isola allora Taranto sapete bene che ha il problema dell'ilva io cosa ho fatto l'isola di Taranto vecchia che è un'isola ho cercato di spostarla allontanarla dall'ilva remando per un'ora attaccata a una cima molto lunga questi sono tutti i miei per un'ora mi sono fatto ucciso le mani c'era gente sopra che faceva pure tifo comunque è stata una bella performance ho cercato di mettere in salvo Taranto andiamo avanti qui ho pitturato un relitto questo relitto era lì perché era stato affondato perché non pagava il pizzo io ho deciso visto che non sono per come si dice l'apologia del relitto ecco non mi piace l'apologia del relitto cioè far diventare un relitto una cosa figa da fotografare cosa ho fatto ho fatto o lo spostato o ve lo decoro io l'ho decorato e poi la gente locale l'ha fatto diventare un monumento gli è piaciuto insomma sono stati tutti orgogliosi di averlo a Taranto Vecchio questo andiamo avanti ho qui un altro contributo sempre a Taranto Vecchio ho portato Mietta a cantare per riportare la musica all'interno di un palazzo distrutto cioè l'idea questa performance intitolava le voci delle case nel sud di solito le case piene sono rumorose cioè la gente canta suona e si diverte siccome a Taranto Vecchio solitamente ora le case sono quasi tutte abbandonate ho voluto riportargli la voce chiamando un illustre Tarantina che è questa cantante l'ho fatta cantare dentro un tubo facendo diventare questo palazzo una cassa di risonanza avanti l'ultimo episodio poi ritorneremo un attimo in badiera per chiudere sono andato a Calais a Calais lì dove sapete è la porta di fuga verso l'Inghilterra chiamiamola così per convenzione e ho fatto questo lavoro con i migranti con gli afghani in questo caso non avendo letto per fortuna in anticipo il cacciatore di Aquiloni l'ho letto solo dopo ho fatto questo lavoro con gli afghani è stato un lavoro bellissimo che mi ha reso veramente una persona migliore non vi racconto tutta la storia di come è andata a Calais con gli afghani vorrei solo dire quanto l'arte possa io non ho ricette questa è la mia ricetta cioè fare il possibile per quello che so fare che mi riesce a fare non ho ricette mi muovo con compassione e con quello che so fare ecco non so come la volevo concludere questa storia vuoi provare ad andare avanti ancora ecco eh questa è l'ultima e questo è un momento dove vi racconto questa allora loro hanno tirato ora tireranno un muro ancora più alto su per evitare loro di tentare la fuga noi abbiamo costruito degli aquiloni dove hanno scritto FG che sta per Afghanistan abbiamo cercato di superare le barriere le dune che loro hanno fatto per non farsi vedere dalle macchine di passaggio eh penso che l'opportunità dell'arte sia questa superare le barriere con le nostre grandi utopie e le nostre piccole possibilità insomma capacità basso non so che dire applausi 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 con le parole di Buggini volevo solo chiudere e passare ancora un istante una parola a Maurizio però io volevo dire solo ho trovato una citazione di Alfredo Giar che dice che appunto l'arte può cambiare il mondo una persona alla volta per cui mi sembra che sia applausi dunque non tutti sono Buggini Buggini è unico e c'è Buggini e Buggini può fare queste cose che cosa però si può raccogliere dal suo lavoro cioè che cosa può diventare patrimonio comune di riflessione e che va diffuso soprattutto fra le esperienze di chi ha a cuore il fatto che l'arte possa in qualche modo essere riconosciuta come portatrice di tentativi con i quali risolvere alcune questioni cioè lì dove la città è povera e generica esperienze come quelle di Alessandro insegnano una cosa che portano il significato del dono cioè molto spesso quando si approcciano delle comunità che da sempre vivono in parte di città che non vengono considerate come tali si legge negli occhi delle persone uno alla volta un senso di rassegnazione ah ma sì ma sono venuti tante volte a raccontarci che adesso faranno questo che faranno questa rassegnazione vincerla è difficilissimo c'è un solo modo con la generosità del significato del dono cioè quello che l'arte può fare e può spostare le cose senza necessariamente muovere le economie del mercato questo fa sì che le persone riconoscano in quello che sta capitando intorno a loro qualcosa uso la parola magico ma pensate a Zavattini pensate a Miracola Milano cioè pensate a quel mondo dell'immaginazione cioè può succedere nel cuore delle persone che ci sia uno scarto ecco quello è il dono positivo non è la carità non è la carità la carità è restituzione la carità della partecipazione è restituzione non è dono il dono è un'altra cosa il dono è vedere che ci sono persone che stanno al freddo per strada che disegnano un crop circle per terra vicino al tuo portone senza sapere perché senza una ragione precisa senza avere poi l'obiettivo di fare una foto che poi andrà nel mercato no semplicemente perché quel pezzo di asfalto ha un significato perché fa parte di una mappa che è nella testa di questa persona che significa che lì va lasciato un segno quel piccolo granello che sposta il significato del dono per chiudere siccome non ci sono tanti bulgini ce ne sono pochissimi credo bisogna fare in modo che gli artisti abbiano degli ambienti nei quali sia possibile percorrere dei percorsi di emancipazione comune cioè l'opera dell'artista va considerata come un percorso di emancipazione non portano verità gli artisti non cercano di educare non vincono il conflitto no bisogna costruire delle situazioni nelle quali con l'aiuto di tutte le discipline delle scienze sociali che possono affiancare gli artisti con l'antropologia la geografia la filosofia la letteratura non solo i curatori non solo gli architetti non solo gli urbanisti gli artisti vanno accompagnati in un percorso di emancipazione collettiva intorno all'opera bisogna far sì che questa emancipazione conduca a dei nuovi tipi di committenza che non hanno dei significati specifici delle ragioni specifiche necessariamente riconoscere il fatto che grazie ai significati dell'arte agli spostamenti di sguardo che produce l'arte un luogo può tornare a sentire su di sé l'appartenenza delle persone che lo vivono posso raccontare solo una cosa scusate vi rompo vi racconto una sola cosa non so se però spero di non commuovermi perché ogni volta che ci penso mi commuovo un solo piccolo racconto sui disegni ci tengo a dirvelo ne ho fatti tantissimi più di cento ero in piazza crispi stavo disegnando arriva un signore magro ben vestito anziano con due buste te l'ho raccontata? viene da me e fa dice cosa stai facendo disegno che bello ma lo sai che ci sono quelli che fanno gli alieni si si lo so lo so mi ricordo un po' questi quei disegni degli alieni però penso anche penso anche a a a Mosè quando incontra Dio la voce viene dall'alto e comincia a fare tutto un racconto suo strano il rovo ardente una voce viene dall'alto forse non sono alieni io faccio vabbè si no vabbè io cerco di accondiscendere a un certo punto mi fa dice puoi chiudere gli occhi chiudo gli occhi mentre chiudo gli occhi vedo che lui mette una mano in tasca e tira fuori 5 euro e io dico guarda no 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 fermati io non voglio soldi non sto facendo questo per soldi no stavo chiudendo questo ho visto che ha tirato fuori 5 euro no 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 è stato un attimo e tutto si è risolto io ho detto guarda non voglio non voglio soldi non faccio solo faccio per il piacere di fare questa cosa e allora lui dice ma tu bevi lo faccio qualche volta ti posso offrire questa bottiglia di vino e c'era nel sacchetto giallo una bottiglia di vino faccio no non volevo togliergli nulla io ho detto no grazie guarda non mi sento nemmeno tanto bene oggi ma ci bello no veramente grazie apprezzo il suo gesto cortese grazie grazie a me non voglio nulla altre due chiacchiere io riprendo a disegnare e lui riprende a guardare dentro il cassonetti e la spazzatura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti